sera ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono le sei e mezza io sto per prendere la macchina e andare a rimini oggi giochiamo contro la stella in coppa italia loro il girone sono primi a sei punti mentre noi siamo secondi a quattro quindi oggi potremmo addirittura scavalcarli l'ultima partita di coppa italia è stato il mio sordio giocato tutta la partita 90 minuti quindi buono però abbiamo pareggiato due a due speriamo che questa volta la portiamo a casa adesso mi metto in macchina ci sentiamo tra poco magari prima di andare è meglio se prendo la borsa oggi il problema tra le miste le 13 non c'è visto che il campo sintetico devo dire la felpa la nostra polo di rappresentanza insieme al pantalone della puma sono la roba più bella che c'è in promozione almeno ci vediamo a rimini sono arrivato adesso speriamo che oggi sia una bella partita dai almeno non piove dai dovrebbe andare bene non conosco ciao bravo 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La partita è finita. Ho fatto gol. Abbiamo vinto 2-0 e siamo arrivati primi nel girone. Veramente è una bellissima partita. Andiamo avanti. Niente ragazzi questo video finisce qui. Mi raccomando iscrivetevi. Volevo rispondere un attimo a una domanda che hanno fatto nei commenti dello scorso video. Purtroppo da ZW Jackson io mi ero proposto quest'estate. Però ripensandoci c'è la terza categoria va bene tutto. Va bene i social e tutto. Però ancora un po' potrei giocare un po' più in alto. Comunque adesso vi devo salutare perché è venerdì. Sono le sei e mezza. In preparazione l'ultimo allenamento prima del big match di domenica contro il Bella Riva. Giochiamo in casa da loro. Sono la squadra con cui ho fatto l'esordio due settimane fa in Coppa Italia. Questa volta però in campionato in promozione. Niente. Ci vediamo nel prossimo video.